Connichiwa! Benvenuti a voi qui nel canale! Sono come sempre Giappogamer, abbiamo di qui un nuovo episodio di Indivisible Allora siamo giunti all'episodio numero 27 di questa avventura incredibile a metà fra platform e RPG Allora andiamo subito a vedere che cosa succede nel favoloso mondo, esoluto colorato mondo e un po' manesco mondo di Indivisible Ok, allora continuiamo ovviamente questa avventura incredibile Ah, qua ci sta questo qua, vai Non lo so, però a me questo, sto mostro mi puzza un po' di boss fight secondo me, eh C'ho sto vago presentimento Allora vediamo un po', ah no si deve ricompor- ah ok Non so se andare giù per di qua Ma oddio ci sono pure degli scheletri qua Che caspita No, allora di qua non è, bene Mamma mia come scivola bene No, è una bella animazione obiettivamente Allora dovrebbe essere Di qua E che caspita però Allora vediamo un po' Ok Eh sì, vediamo un po' La mappa Do che caspita stiamo E ok lì Vabbè Non so Vediamo un po' Per di qua Eh cazzarola È bello grosso Porca miseria Vai Vediamo un po' Ok Bene così Passiamo per di qua Vediamo un po' Lassù qua Che sbrilluccica No eh Che figata sta cosa Che rimane a mezza altezza Che figata No però niente Non si può andare Vediamo un po' Mappa Eh cazzarola Però ci sarebbe Un passaggio Lo da Vabbè Eh vabbè Ok ci andiamo giù Oppela Che ci ha portato Qua Vabbè Ok Salviamo il volo Eh Oppure Non si può andare giù Non so È qua Ma che cazzo è quello Ma chi è Ma che cazzo è Ma chi è Ma se lo colpisco Non si può mancare No Si già Giusto Perché ci sta Il bestione Che non so Se sia un serpentalato Non so Che bestiaccia Sia Sinceramente Non so Da che cosa Da quale mondo Folcoristico Esca fuori Porca Troia Eh già Nella sua Tana Nella sua Tana Che Tana Quale Tana Ma qua No Vediamo un po' Un po' No come se Ci sono già passati Tra le altre cose Ok Mamma mia E va bene Ok Salviamo pure qui Ok Procediamo No 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 Infatti Non ci sta niente Mi verrà troppo bello Sinceramente E vabbè Cagliamo qua Eccala Questa dovrebbe essere La Tana E infatti Ci tua Ma sei Un bastardo Maledetto E beh Che di questo qui Così Vai tu Vai tu Vai tu Occhio ragazzi Occhio Vai così Vai così Vai così Dacci tua Dacci tua Tu gaspia Stai E fatti E fatti beccare Bastardo Ok E fatti beccare Vai dar Vai dar Forza Forza ragazzi Acci tua Vai così E prendi questo qui Così Brutto Bastardo Maledetto E beccati questo Così Vai 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 Ajna Vai in doppio Vai così Becchiamolo Vai così E beccati quest'altro Così Vai così Vai così Sì Yatta Yatta Tacci tua No Che caspia fai Che vuoi Ma che è Oh cavolo Ha beccato il stesso serpente Oddio Oddio Ecco Ecco l'uscita Yatta Ok Ma che tenere Ma che Sei matta Ma che Vuoi tenere la bezza Così delle sabbie Non verme della sabbia No Eh lo spero per te Cara No Che l'hanno ucciso No Dai Non dire così Cavolo Ti è stato ordinato No Dai Sì Quando eri bambino Ma come no Ma che Che Caspita Eh già Dove Dove Convivere Tutti insieme Appassionatamente Ok Mamma mia Ah qua si può salvare Tra altre cose Ok Bene così E ok Eccoci Nel Mondo Mentale Di Ashna In questo mondo Piene di personaggi Tutti i personaggi Che compongono Praticamente L'intero team Che È rinchiuso Nella mente Di Ashna Allora Comunque Soprattutto È un luogo Tranquillo Dove poter Eh Dove posso Salutarvi tranquillamente E allora Cari ragazzi Ragazzi Anche questo episodio Numero 27 Termina qui Io spero Che vi sia piaciuto E per questo episodio Vi chiedo di arrivare A 10 likes Ragazzi So che ci volete fare Tranquillamente Confido in voi Mi raccomando Insomma Non mi richiedo Milioni e miliardi Ma 10 likes Potete tranquillamente Arrivarci Per supportare Questa serie Incredibile Che Insomma Mi sta piacendo Veramente sempre più Ovviamente Voi commentate Condividete con i vostri Amici Amiche Per far conoscere Giappogamer In lungo e in largo Iscrivetevi al mio canale Attivate la campanella Per rimanere a aggiornare I miei suoi video Episodi su gaming Giapponese A 360 gradi Seguitevi anche Nei miei social Vi ricordo come sempre Essere Pagina Facebook Twitter Instagram Canale Telegram E in più Potete anche seguirmi Sul mio blog Su wordpress Mi trovate scrivendo Giappogamer.home.blog Dove scrivo Prattamente news E recensioni Sui videogiochi Che riesco a portare A termine Il mio canale E allora Cari ragazzi Ragazzi Cari fan Cari voi tutti Cari Giappolovers Io vi ringrazio Per essereati fin qui Abbraccio forte Al vostro Giappogamer Per il momento È tutto Matane E ai prossimi Episodi Per il momento E ai prossimi E ai prossimi